Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura parliamo dell'emergenza sanitaria, consueto punto Covid nel Vesuviano, registrati tre decessi a Torre del Greco ieri, mentre a Castellammare attestati 105 nuovi casi. In aumento del 49% i contagi nell'ultima settimana, nelle prossime ore la campagna potrebbe diventare russa. Abbiamo ascoltato anche i pareri dei cittadini torresi. Approvato ieri lo schema di bilancio in consiglio comunale, finanziamenti ed esenzioni per le attività commerciali torresi. L'intervista all'assessore con delega al bilancio, Anna Rita Ottaviano. Pronto un consiglio comunale monotematico per discutere la problematica dell'ospedale Marisca. Ai nostri microfoni la consigliera Romina Stilo e rappresentanti dell'associazione ProMarisca. Fondi in arrivo per le associazioni sportive dilettantistiche, ce ne ha parlato il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Resta alta l'attenzione a Torre del Greco. Nella giornata di ieri sono 29 nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte dei 165 tamponi effettuati, tutti in isolamento domiciliare. Sono invece 27 il numero delle guarigioni registrate. Sale ancora il numero dei decessi. Ieri sono decedute tre persone di 74, 72 e 67 anni. A Torre Annunziata invece sono 468 i tamponi effettuati, 64 dei quali risultati positivi al Covid-19. Al contempo si registrano anche 40 guarigioni ed il decesso di quattro uomini, rispettivamente di 90, 80, 74 e 61 anni. Ad oggi i positivi nella città o Plontina restano 777. Delicata la situazione a Castellammare di Stabia, dove, dopo numerose restrizioni del sindaco Cimmino, nella giornata di ieri i positivi registrati sono stati 105, a fronte dei 543 tamponi effettuati. Si registrano però 13 nuove guarigioni e nessun decesso. Attualmente in città i positivi sono 2.122. Sono 171 i tamponi effettuati a Ercolano, dove 47 sono risultati positivi al Covid-19, a fronte dei 36 nuovi guariti. 14 di questi avevano contratto la cosiddetta variante inglese. Al momento in città sono 465 i positivi, di cui 20 con variante inglese. La situazione contagi non sembra placarsi. Con la campagna che si gioca tutto in queste ore. Un destino, quello campano, che si vede sempre più proiettato in un regime di quasi lockdown con l'entrata della regione in zona rossa. Sale vertiginosamente la curva dei contagi da Covid-19 in Campania. Una situazione davvero pericolosa che potrebbe portare il governatore Vincenzo De Luca a decidere per la zona rossa entro la fine della giornata odierna. Uno scenario inevitabile visto l'incremento di positivi del 49%. Tra le aree più colpite ci sono quelle del Vesuviano, Torre del Greco, Castellammare e Torre Annunziata. Inoltre, a complicare il tutto, si registra una carenza di personale nei reparti ospedalieri visto l'afflusso degli ultimi giorni. L'unità di crisi della regione Campania ha pertanto deciso di impegnare in un'azione straordinaria il TGEM e l'AS Napoli 1 per rendere quanto più puntuale e capillare l'individuazione delle varianti. Un lavoro indispensabile a fronte di una crescita del contagio che rende ormai inevitabile la zona rossa in Campania. Difatti, rispetto al primo lockdown, la questione varianti diventa di primaria importanza, soprattutto quella inglese, poiché è più contagiosa e più aggressiva, colpendo anche le fasce giovanili. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, è stato chiaro. Dagli ultimi dati, sembra inevitabile che si vada in zona rossa. Purtroppo, sia a Napoli che in Campania, i contagi sono in crescita e sono in aumenti di coveri non solo nei reparti ordinari, ma anche nelle subintensive e nelle intensive. Se i dati ci portano in questa direzione, ritengo che sia meglio che lo si faccia presto, così da poterci poi preparare per una primavera più tranquilla. Zona rossa è inevitabile per la Campania. A partire da lunedì, la possibile decisione della cabina di regia del governo, che analizzerà i dati sull'andamento del contagio da Covid. Alle telecamere di TV City sono intervenuti i cittadini di Torre del Greco, che seppur tra sconforto e desolazione, si dicono favorevoli, in parte, alla zona rossa. Campania vicino alla zona rossa, cosa ne pensa? E penso che come siamo arrivati, anzi, mi ha aspettato che il provvedimento venisse resa anche prima, perché ce ne sono troppi, almeno quello che dicono i giornali, i numeri che sono ufficialmente ne sono troppi. Io mi sarei aspettato che almeno il Presidente della Regione avrebbe già iniziato con almeno le zone rosse. Perché? Perché questo è uno Stato che, indipendentemente che ci sono delle persone che si sanno comportare benissimo, mantengono la distanza, mantengono la mascherina. Ma purtroppo in alcune zone c'è gente che è proprio inutile dirglielo, perché non ne vogliono proprio sentire parlare. E questo è un danno per tutti quanti. L'unica nostra speranza, come tutti quanti, è il discorso dei vaccini. Qua abbiamo parlato da 80 anni in poi e sono d'accordo. A me dispiace perché ci sono degli ammalati che non hanno 80 anni, malati con delle particolari, come gli oncologici, i cardiopatici, che secondo me dovrebbero essere alla pare degli ottantenni. Siamo su conseguenze di sbagli che sono fatti in precedenza, i mancati controlli, tutto quello che è il ritardo sui vaccini, che non prosegue con la velocità che dovrebbe essere. E fin quando non risolviamo il problema dei vaccini saremo sempre un punto a capo. Chiudiamo, riapriamo, riapriamo. Quindi sono diversi i fattori, secondo lei, che hanno portato a questo. Una mancanza di controlli, un rallentamento dal punto di vista dei vaccini. Principalmente sì. Questo qua è il problema principale. Se capito la macchina, se non si va avanti con i vaccini non risolviamo mai il problema. Se una soluzione di una settimana, potendo stare in casa tutti quanti, risolviamo sì, altrimenti siamo proprio allo cifacello totale. Non saprei dare un consiglio onesto perché non vedo nessuna soluzione. Né se siamo aperti né se siamo chiusi, sinceramente. È il mio pensiero, umile. Cosa ha portato, secondo lei, a questa decisione? Il non rispettare le regole. Innanzitutto perché nella zona più o meno dove abito, i ragazzi la sera, i ragazzi, ma anche gli adulti, sono sempre senza mascherina. Non so se questa è la cosa che ci può salvare, ma comunque non ce l'hanno la mascherina, non si rispettano le regole. E poi siamo stati male seguiti in tutto, ma nel nostro comune ha maggior ragione. Non solo per quanto riguarda la politica ai capoccioni, proprio nel nostro paese non siamo serviti bene. Inoltre, secondo lei, il ralentamento della campagna vaccinale può rappresentare un pericolo per noi cittadini? Certamente, sì. Il proseguo della campagna vaccinale e l'arrivo del decreto sostegno sono fondamentali per noi. Bisogna proseguire su questa strada? Bisogna accelerare? Assolutamente sì. Io sono uno di quelli che ho qualche problema, per cui sono una persona a rischio. Spero che arrivino presto, proprio perché penso che sia l'unica soluzione al momento. È meglio chiudere tutto per migliorare questa situazione, perché prima o poi ne dobbiamo uscire. Meglio chiudere un po' tutto, con maggiori controlli, perché non se ne può più. Penso che sia inevitabile, perché veramente il tasso è abbastanza elevato. Sta colpendo anche, comunque, ho letto i dati del sindaco, e sta colpendo anche i ragazzi, quindi dobbiamo stare attenti. E credo che sia l'unica soluzione, sia quella di, purtroppo, inevitabile, di entrare in zona russa, magari cercando di contenere i contagi. Quali sono, secondo lei, i fattori che hanno portato a questa decisione? Penso principalmente l'indisciplina e il mancato senso civico, perché attualmente siamo in zona arancione e c'è ancora comunque troppa indifferenza verso le norme più elementari, come il distanziamento e la mascherina, che dovrebbe essere ormai una legge base. E invece ancora vedo che c'è molta indifferenza da parte del cittadino, molta superficialità. Quindi lei fa appello al senso di civiltà dei cittadini? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché sono chiare e semplici regole, e quindi non capisco perché non debbano essere rispettate. È per la nostra salute. Negli studi di TV City, l'assessore al bilancio, Anna Rita Ottaviano, ieri in giunta, che cosa è stato approvato? A parte lo schema di bilancio, di previsione 2021-2023, già discusso il relativo DUP, il documento programmatico, quindi fondamentale per poi l'approvazione successiva, e sono state discusse anche le tariffe, anzi approvate le tariffe previste dal nuovo regolamento approvato in Consiglio Comunale. Le tariffe si riferiscono al canone unico patrimoniale che va a sostituire la COSAP, la TOSAP, il diritto sulle pubbliche affissioni e tale regolamento è stato approvato nell'ultimo Consiglio Comunale poiché è stato previsto da una legge di bilancio del 2020 che ha stabilito di accorpare in un unico canone tutte queste imposte e ieri in giunta è passata l'approvazione delle tariffe. In poche parole, quindi, che cosa cambierà? C'è stata l'applicazione della tariffa unica standard e in base ai limiti stabiliti dal governo e ai limiti governativi abbiamo fatto uno studio. Da questo studio è scaturito che praticamente riusciamo a mantenere lo stesso gettito dell'anno precedente, però rispetto alla tariffa standard sia giornaliere che annuale c'è una riduzione del 38%. Ci tengo a precisare per le attività che si insedono sul territorio quest'anno, dal 2021 in poi, per il 2021 c'è l'esenzione completa. Anche se dall'ultimo decreto ristori per il momento è previsto l'esenzione fino al 31 marzo 2021 e così abbiamo deciso per le nuove attività di esentarle completamente. Torre del Greco dunque è un comune virtuoso? Possiamo definire un comune virtuoso. Nel bilancio ci sono molte opere pubbliche e la maggior parte sono tutte finanziate con finanziamenti provenienti dalla comunità economica europea e sono opere di rilievo, ma quest'anno dobbiamo dire un'altra particolarità del bilancio è l'assunzione riguardo all'assunzione di 29 risorse umane. Quindi opere pubbliche e assunzione del personale, questi sono i capisaldi di questo bilancio? Sicuramente. Ovviamente poi ci sono tutte le attività di ordinare amministrazione, c'è un avanzo di amministrazione che per il momento, vogliamo dire, è un avanzo disponibile ma aspetteremo il rendiconto per poi poter stabilire l'avanzo vero e proprio. È un comune non indebitato proprio perché le opere pubbliche vengono finanziate o con avanzo proprio oppure con risorse statali e quindi è un altro punto importante di questo comune il tasso di indebitamento è bassissimo. Tutto ora dovrà avere l'ok del Consiglio Comunale? Sì, dovrà avere prima l'ok da parte dei revisori dei conti poi dopo l'approvazione e parere dei revisori dei conti passerà in Consiglio Comunale e poi incomincieremo a lavorare definitivamente. Romina Stilo, questa mattina una riunione in Commissione Trasparenza con l'Associazione Promaresca in vista di un Consiglio Comunale monotematico in programma per il prossimo martedì. L'abbiamo fortemente voluto sia noi dell'opposizione che anche i membri della maggioranza anzi che ringrazio vivamente perché parlare dell'ospedale, affrontare le problematiche dell'ospedale è un problema di tutti che non ha colori politici. Io mi auguro che vengano tutti quelli che abbiamo invitato innanzitutto il sindaco nella duplice veste di sindaco quindi capo dell'istituzione ma anche del presidente della commissione sindaci a Napoli 3 Sud e poi il dirigente generale Sosto importantissimo perché comunque dovrebbe un po' relazionarci e spiegare cosa sta accadendo. Noi relazioneremo nel senso che comunque faremo un verbale che comunque inviamo anche in regione. Mi auguro che intervengano comunque anche esponenti della regione Campania perché sono stati invitati ma anche per ascoltare la voce del popolo torrese perché comunque noi saremo il portavoce dei rappresentanti non solo delle associazioni, ma dei rappresentanti dei cittadini. Noi vogliamo un ospedale, un ospedale che funzioni al 100% perché oggi purtroppo non si muore soltanto di Covid. Secondo lei la città di Torre del Greco non ha il giusto peso politico per la regione Campania? Ma io penso che proprio il nostro consiglio comunale la nostra amministrazione dovrebbe avere il giusto peso politico perché sappiamo benissimo che un'amministrazione comunque di sinistra un'amministrazione dove il sindaco in primis ha l'appoggio del nostro comunque consigliere regionale Loredana Raia dovremmo avere l'appoggio di Mario Casillo. Noi chiediamo proprio a loro di intervenire, proprio a gamba tesa. Vorrei dire a questi signori che ci hanno chiuso il pronto soccorso almeno ci dite dove è che dobbiamo andare a morire. Non è fattibile chiudere un pronto soccorso a Torre del Greco perché ancora tutt'oggi arrivano pronto soccorsi ma non sanno dove rivolgersi. Anestesisti che di notte sono stati allontanati dal Maresca per andare a Bosco Tre Case. Loro devono farsi carico di aprirci al più presto un pronto soccorso con emergenza, urgenza, un pronto soccorso ordinario che può abbracciare tutte le patologie di questa città perché solo negli ultimi 20 giorni i signori sono morti 4 persone in casa per infarto. La battaglia per il Maresca in questa città va avanti da molti anni ma in questi anni la politica a tutti i livelli che cosa ha fatto? Nulla, zero, nulla. Nessuno, destra, sinistra, maggioranza, opposizione ognuno se ne è passato per la testa. Non hanno capito che qua nessuno immune può capitare a chiunque di avere bisogno del pronto soccorso per qualsiasi patologia. Basta, anche i politici si devono affiancare a noi e fare una lotta per questo nostro ospedale. Torre del Greco ha bisogno di un ospedale. Cari politici, smettetela solo di fare solo passerelle e aiutateci. Basta. Io come medico non mi spiego come possa ospitare dei pazienti Covid senza più l'anestesista fisso. Senza le subintensive e senza le intensive che pur erano previste dal piano sanitario regionale ancora prima e nel numero di otto intensive dell'emergenza Covid. Restituiteci l'ospedale di pronto soccorso con i servizi minimi previsti dalla legge. Non ci interessano i reparti che fanno intervento di elezioni in questo momento. Io rivolgo la domanda ai miei amici consiglieri che sono amica di tutti, comunali, regionali, cosa dite ai vostri elettori e ai vostri familiari? Perché se consentite che vada avanti questo vuol dire che avete anche una risposta da dare. Io e tanti cittadini non ce l'hanno sta risposta. Per piacere illuminateci. Questa è la mia preghiera. Onorevole Luigi Gallo, novità in arrivo per le associazioni sportive dilettantistiche. Ci sono fondi e iniziative? Sì, è un momento difficile e si riparte per lo sport. Tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche potranno partecipare dal 15 marzo sul bando sport e salute per ricevere fondi fino a 100.000 euro. Fondi per garantire sport ai bambini che oggi sono stati sul divano, sono stati sotto le coperte, davanti a uno schermo, possono ritornare in campo e possono ritornare le attività per le società sportive. Devono avere dei requisiti particolari per partecipare? Basta essere una società sportiva, poi ci sono 4 milioni a disposizione e tutti i requisiti sono sul sito sport e salute. È importante che si riparte per il benessere dei giovani che in questo momento è in forte crisi. Giovani che dunque pagano un forte prezzo per l'emergenza Covid? Pagano un forte prezzo, soprattutto in Campania, perché in Campania ha chiuso le scuole in presenza facendo solo meno di 30 giorni in presenza rispetto a tutte le altre regioni italiane ma anche a tutto il resto d'Europa. Quindi il prezzo non solo noi lo paghiamo in povertà educativa che sappiamo che è un problema molto grave sul nostro territorio ma lo paghiamo anche per le scelte purtroppo gravi del governo della regione. Rispetto alla gestione dell'emergenza nel complesso lei come ha visto e vede le scelte che sono state fatte sia dall'amministrazione comunale, dalla regione ma dal governo? Le nuove generazioni che rappresentano le generazioni su cui l'Europa vuole investire in realtà oggi sono quelle più penalizzate da scelte governative perché ricordo che il nostro impegno al governo è stato quello di mantenere alto le aperture delle scuole ma per un motivo preciso perché non possono venire dopo i centri commerciali se si è aperto un centro commerciale allora è aperta anche una scuola in sicurezza e se ci sono dei problemi specifici si chiude la scuola singola non un'intera regione Grazie per la cortese attenzione per infosegnalazioni contattateci alla mail redazione o al numero di telefono 340-6561-484 Grazie e buon weekend Grazie a tutti